Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo stranutire e non abbiamo un fazzoletto monomuso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo.